E' il suo sogno, città aperte, accessibili, inclusive. Beatrice ci spera e si dà da fare perché questo suo desiderio si realizzi, ma resta difficile per un disabile con difficoltà motorie spostarsi nelle nostre città, tra marciapiedi sconnessi, gradini troppo alti, scale e dislivelli. E' un po' difficile perché anche camminando sui lastroni, così, sul porfido, c'è sempre qualche cosa che va fuori del normale e uno se non alza il piede e non ha la forza di alzarlo, logicamente inciampa può cadere. Io mi vado via con due bastoni per cercare di vietare questo, sicuro che è una fatica. E' faticoso, una semplice passeggiata, ma anche soltanto l'uscita per una piccola spesa, per chi non riesce a camminare diventa una scalata. Non camminare vuol dire asserire a rotelle, che è ancora peggio. Ancora più difficile muoversi. Ancora più difficile perché vediamo, i negozi, io ho certi negozi, non posso entrare, perché il gradino quando supera i 15 centimetri non ho la forza di sollevarmi. C'è ancora molto da fare da questo punto di vista? Guardi, io penso che non è mai finito. Ossia, è una cosa che questo la può capire solo un disabile. Io non mi considero un disabile perché mi muovo autonomamente e riesco ancora a fare tutto da solo. Ma sicuramente uno che è in sedia a rotelle ha mille difficoltà. Una vita di dipendenze dalla disponibilità della gente o dal commesso del negozio. Grazie. Grazie.